Il crack delle banche popolari arriva a Cacorner davanti al prefetto di Venezia. Si vuole proporre l'istituzione di un osservatorio del risparmio, uno stato dell'arte della situazione che stanno vivendo le imprese del Veneto. Abbiamo proposto un osservatorio per il risparmio, per verificare tutti i problemi delle imprese che sono state messe in crisi da questa devastazione economica, in quanto non è ammissibile che le banche speculino su queste disgrazie. I problemi delle imprese dal punto di vista monetario e gestionale, le difficoltà che stanno incontrando, un'agenda che vuole essere libro guida, sotto accusa sempre il sistema bancario. Noi pretendiamo che gli errori del passato non si possano, non si debbano più ripetere. Lo pretendiamo per noi, per i nostri figli, ma per tutti, per salvare il Veneto e l'Italia.